Buongiorno e buona Domenica delle Palme a tutti e a tutti. Come promesso sono qui per raccontarvi a che punto siamo con l'emendamento alla Cura Italia presentato al Senato su proposta di città rinanziativa di oltre 70 associazioni per l'afforzamento dell'assistenza domiciliare, con un piano straordinario per l'afforzamento dell'assistenza domiciliare. E' stato presentato la prima firma Nannecini e hanno aderito senatori di molti gruppi politici, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, l'EU, Forza Italia e Gruppo Misto. Ringrazio tutte e tutti i firmatari perché è un segnale molto importante di unità del Paese di fronte ad un'emergenza come quella che stiamo vivendo e di fronte alla necessità di dare un sostegno concreto alle persone utilizzando strumenti che permettono la cura a casa. Ma in questo momento, in queste ore c'è un momento decisivo, c'è un vertice di maggioranza che sta decidendo gli emendamenti da sostenere. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore sarà decisivo l'impegno di tutti per segnalare quanto è importante, quanto è fondamentale sostenere questa proposta. Lo è perché le persone stanno morendo all'interno dell'RSA, lo è perché le persone stanno morendo perché non si possono curare a casa, penso i malati cronici e erari. C'è bisogno di una mobilitazione da parte di tutti, c'è il bisogno del sostegno da parte di tutte e di tutti voi. Contattate i vostri parlamentari, mandate messaggi ai vostri gruppi politici, sostenete questo appello su tutti i social, diamo un segnale che le cose possono cambiare, facciamolo per chi in queste ore sta soffrendo, facciamolo anche per noi per garantirci che ci sia la possibilità che i nostri cari possono essere curati meglio a casa, non solo per la loro sicurezza ma anche per permettere di essere assistiti con la dignità che troppe volte stiamo vedendo non viene rispettata. Sosteniamolo e impegniamoci al massimo delle nostre possibilità per farlo. Vi ringrazio e grazie a tutti per quello che potete fare anche in questo giorno.